Si chiama Tuttoio.it ed è il primo portale online di carrozzeria Fai da Te. Il progetto, presentato in anteprima nazionale nella Galleria Borbonica di Napoli, ideato dal carrozziere Salvio Brugnolo, è una rivoluzione del campo automobilistico perché tutti, anche meno esperti, potranno accedere al sito e ottenere il proprio preventivo, con prezzi fissi o ascoltare il consiglio di un esperto del settore. A partire dal 29 settembre si potrà anche accedere all'app. Ascoltiamo Salvio Brugnolo. Vogliamo dare una mano alle persone a conoscere un mondo nuovo. Vogliamo far aprire una finestra, una luce per le persone che, in poche parole, oggi nella riparazione non hanno fiducia e temono. Quindi nasce Tuttoio, proprio per questo motivo, perché vuole essere sia un comparatore di preventivi e sia un consigliere. Vuole dare una mano e vuole dare fiducia alle persone per aumentare le riparazioni perché c'è la necessità di fare più controlli vicino agli veicoli, perché molti sinistri arrivano proprio perché non c'è tanto controllo, perché la gente è spaventata dalle riparazioni. Riparazioni sicure, preventivi trasparenti e prezzi uguali per tutti in qualunque parte d'Italia. Inoltre, una volta accertato e accettato il preventivo, ogni cliente riceverà un'automobile di cortesia da utilizzare durante il periodo della riparazione. Io nasce in collaborazione tra la Val d'Aosta e la Campania. L'assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, esprime la sua soddisfazione. Un'idea che parte da Napoli, ideata da un ragazzo napoletano al quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e che possa questa location così speciale come la Galleria Borbonica e che possa la nostra città che sappiamo essere unica, essere un palcoscenico naturale di fortuna per un'idea che è una start-up non soltanto immaginata, pensata, ma oggi un qualcosa di concreto e la quale secondo me c'è molto da sorprendersi in positivo.